Edoardo, allora come è andato questo esordio olimpico per te? Sicuramente è stata un'emozione molto forte, ovviamente poi quando inizia la partita le emozioni si mettono da parte e si impensano soltanto a giocare. Abbiamo fatto una grande partita giocando molto molto bene in difesa, anche in attacco siamo riusciti a carare tanto nonostante noi abbiamo preso tante espulsioni. Sono molto contento di come abbiamo giocato, quindi questo qua è il piede giusto, dovevamo iniziare così e sono molto orgoglioso. Grazie. Ciao.